www.feyyaz.tv 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 Ciao a tutti amici di Link, sono qui con due componenti che ci siamo messi, oggi avete vinto un punteggio 8 a 2 contro il Città, come è andata la partita dei vostri punti a vista? La partita è stata all'inizio combattuta perché i ragazzi comunque erano una squadra, correvano, il campo lo tenevano abbastanza bene, eravamo passati anche in svantaggio all'inizio, poi siamo riusciti a riprenderla subito e poi 2 a 1, 3 a 1, a fine primo tempo l'abbiamo messa già in discesa Il secondo tempo diciamo che non si è giocato molto il secondo tempo, obiettivamente Tu sei d'accordo? Sì sì, anche e soprattutto secondo me la differenza l'ha fatta perché noi eravamo messi bene in campo, soprattutto a livello difensivo loro magari un po' meno e questo alla fine è un gran numero a parte Grazie mille ragazzi, alla prossima, ciao!